Rieccoci, bentornati alla nostra rassegna stampa seconda parte, quella in cui approfondiremo i temi che ci riguardano più da vicino, i temi regionali e le notizie che abbiamo visto in prima pagina sui quotidiani locali. Ripartirei dalla garantista, prima però andiamo a vedere che santo è oggi. Oggi la Chiesa ricorda Santo Maso Beckett, vescovo e martire, che per avere difeso la giustizia e la Chiesa fu costretto all'esilio dalla sua sede di Canterbury e dal regno stesso di Inghilterra e tornato in patria dopo sei anni, fatì ancora molto finché passò a Cristo, trafitto con la spada dalle guardie del re Enrico II nella cattedrale. Insomma questo è il santo del giorno e allora riprendiamo come dicevamo dalla garantista, abbiamo letto i titoli in prima pagina, l'approfondimento all'interno proprio Calabria, bimba di sei anni, la tragedia proprio a buon vicino nel Cosentino per un'intossicazione da monossido di carbonio. In fin di vita la mamma a 36 anni ad accorgersi del fatto uno zio della piccola che era andato a prenderla per portarla dal papà, individuata una perdita nell'impianto di riscaldamento della casa. Rapina anziana immobilizzata e derubata nella sua casa Mirto-Crossia, sempre nel Cosentino, una donna di 80 anni, nubile, è stata rapinata a Mirto-Crossia da due persone col viso coperto, si sono introdotte nella sua abitazione, i due banditi dopo aver immobilizzato la donna l'hanno legata con nastro adesivo per poi mettere a soccuadro la casa alla ricerca del denaro. Il bottino della rapina è di 250 euro, dopo aver prelevato il denaro i due rapinatori hanno liberato l'anziana e si sono allontanati, è stata la stessa donna ad avvertire i carabinieri. E poi ancora cronaca, proprio un altro caso che riguarda appunto una bambina, questa volta una neonata trovata senza vita, aperta un'inchiesta sempre nel Cosentino a Grimaldi, una neonata senza vita è stata ritrovata dai carabinieri della compagnia di Irogliano, diretta dal capitano Giovanni Caruso nella giornata del 22 dicembre scorso a Grimaldi, comune posto nella valle dell'Assavuto, un evento tragico che ha scosso ovviamente i militari dell'arma intervenuti sul posto, i quali hanno comunicato immediatamente la prematura scomparsa, la procura della Repubblica di Cosenza che ha aperto un fascicolo attualmente coordinato dal Pubblico Ministero Maria Francesca Cerchiara che ha disposto l'autopsia sulla salma della povera bimba a cura del medico legale Silvio Berardo Cavalcanti. Il primo atto dovuto a tutela della persona nel mirino degli inquirenti è stato quello di iscrivere nel registro degli indagati la mamma, 22enne. Secondo la prima ricostruzione il parto sarebbe avvenuto tra le mura domestiche e sembra che qualcuno abbia tagliato il cordone ombelicale che avrebbe quindi provocato il decesso. Sul caso l'ufficio di procura coordinato dal procuratore capo Dario Granieri intende fare piena luce. Insomma davvero notizie di cronaca drammatiche e poi ancora la questione legata allo sporting Locri che ormai come sapete, come sappiamo un po' tutti, è quella squadra di calcio a cinque femminile proprio di Locri minacciata da lì la decisione del Presidente di non proseguire più l'avventura proprio in Serie A, tra l'altro la massima serie del calcio a cinque femminile. Ci sono state le nuove parole del Presidente che si è detto appunto però positivo sul ritorno in campo almeno il 10 gennaio delle sue ragazze e poi c'è la questione che l'ipotesi soprattutto che non convince gli investigatori quelle ipotesi legate all'andrangheta e quindi le minacce che sarebbero pervenute non dalla criminalità organizzata, non dall'andrangheta, anche se in questo momento tutte le ipotesi restano aperte e allora a sporting Locri c'è l'informativa, il documento è stato trasmesso alla Procura che ora dovrà valutare se aprire un'inchiesta e sul futuro si fanno strada diverse ipotesi per mantenere in vita la squadra in campo, anche riferimenti con Adriana Musella proprio a capo di riferimenti, l'associazione antimafia che si è detta pronta ad acquistare il club. E poi cronica giudiziaria hanno mentito per scagionare gli accusati del delitto fortunio, le motivazioni del tribunale, così il giudice spiega la sentenza di condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per falsa testimonianza, carico di sette persone intervenute al processo per l'omicidio del politico. E poi l'accesso antimafia a Rizziconi, sempre nel Reggino, accesso antimafia al comune di Rizziconi. Ancora una volta lo spettro del condizionamento mafioso si affaccia sul municipio della cittadina della Piana di Gioiettauro per ben due volte già oggetto di scioglimento per mafia nel 1995 e nel 2000. Nuove ombre si addensano, scrive il garantista sul comune di Rizziconi. Ancora una volta lo spettro del condizionamento mafioso si affaccia sul municipio della cittadina della Piana di Gioiettauro per ben due volte già oggetto di scioglimento per mafia nel 1995 e nel 2000. La Prefettura di Reggio Calabria ha infatti inviato la Commissione d'accesso al fine di verificare se emergano forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare che determinano o abbiano determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrative che compromettano il buon andamento, l'imparzialità di quell'amministrazione comunale. Dunque continua proprio il garantista, un duplice aspetto toccherà seminare ai commissari inviati a Rizziconi per un verso stabilire se essi vi è stata un'alterazione della volontà di giunta e consiglio e se questi fatti possono aver compromesso dunque infiltrato l'attività delle stesse istituzioni. Insomma questa è proprio l'approfondimento sull'invio della Commissione d'accesso antimafia al comune di Rizziconi. E poi la bella scoperta proprio dalla CNR e dall'Unical di REN, dell'Università della Calabria, che svelano il segreto del collante subacqueo contenuto nelle cozze. E' svelato il segreto della potente colla naturale prodotta dalle cozze. La sua forza sta in una proteina asciugatrice che rimuove le molecole d'acqua per poi aderire tenacemente al substrato. Insomma una bella scoperta made in Calabria. E poi la solidarietà ai giornalisti colpiti dall'intimidazione, tra cui anche il nostro direttore Pietro Comito. E' arrivata la solidarietà anche di Dorina Bianchi. E' allora atto di violenza che ferisce la coscienza democratica di tutti. E poi nel processo Emilia, l'uomo tenta di rompere nell'aula proprio del processo, un tentativo di incursione nel padiglione 19 della Fiera di Bologna, dove è stata allestita l'aula speciale per l'udienza preliminare del processo d'indrangheta proprio Emilia. Questo è l'approfondimento all'interno del garantista. Entriamo però anche sul quotidiano del sud, partendo proprio dalla Calabria e quindi dalla regione, per poi approfondire attraverso le province calabresi. Allora rifiuti e bilancio il 2016 sarà decisivo in regione. Ancora una proroga alle discariche. Oliverio annuncia le gare per i tre impianti entro due mesi. E' l'ultima seduta del Consiglio regionale. Le prese con la legge di stabilità e spazzatura. 700 milioni ipotecati per i mille rivoli. E poi domani la firma per la formazione dei lavoratori a Gioia Tauro, proprio in virtù di quella che sarà una fabbrica per la costruzione di auto. E ancora, dicevamo, c'è una nuova legge urbanistica. Ha rinviato però il QTRP, legge sismica, invio atti solo in digitale. E sono state snellite. Nel frattempo le procedure per l'edilizia si va verso il consumo zero. E soprattutto verso la totale digitalizzazione del sistema. PSR 2007-2013, che sono i fondi comunitari, raggiunta la spessa del 98,6%. Tornano indietro a 9,6 milioni di euro su oltre un miliardo comuni responsabili. E ancora, dicevamo, la questione è legata ai fallimenti degli istituti di credito locali, ma ci sono anche due istituti di credito calabressi commissariati. I due istituti di credito sono stati sanzionati da Banca Italia. Per una c'è l'ipotesi acquisizione. Ieri la manifestazione è sotto la sede della Banca Etruria. Gli spalmiatori chiedono la restituzione totale. Dicevamo, due istituti di credito, proprio sotto la lente di ingrandimento di Banca Italia, istituti di credito calabressi. Tra questi, appunto, ci sono anche due istituti calabressi, ad oggi ancora commissariati. Si tratta della BCC Banca Abruzia e della Banca Popolare delle province Calabre. I due istituti sono finiti in amministrazione straordinaria nel 2014, ma a metà 2015 è arrivata la proroga del commissariamento. Insomma, vedremo come andrà a finire. Non è una questione di indrangheta. Potrebbe, insomma, non essere legata all'indrangheta. La minaccia, le minacce ricevute dallo Sporting Locri, dai dirigenti dello Sporting Locri, il club di calcio a 5 femminile, appunto, che ha deciso, avrebbe deciso, attraverso le parole del Presidente, di abbandonare l'attività agonistica. Allora, questo è il titolo. Non è una questione di indrangheta. Tutte le ipotesi sulle pressioni alla squadra restano aperte, ma non convince quella delle cosche. i carabinieri consegnano un'informativa sulle minacce rivolte al club di calcio a 5 femminile e Sporting Locri. Velocemente anche gli altri titoli. Dicevamo, la bimba di 6 anni uccisa dal monossido di carbonio a Buonvicino, nel Cosentino. La madre di 36 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dell'Annunziata. La tragedia causata probabilmente da una perdita del sistema di riscaldamento. Insomma, lo abbiamo anche detto e ripetuto. Entriamo all'interno delle province, all'interno dei territori. A Catanzaro, Capodanno farà ballare la città. Per il botto di fine anno, artisti di fama si esibiranno proprio nel centro storico della città dei Tre Colli. La rassegna di Pascuzzo offrirà microeventi itineranti. E ancora sempre nel Catanzarese, avete Talent Scout, due belle ragazze, tra l'altro riportate in seconda pagina proprio Catanzaro sul Quotidiano del Sud. Giorgia e Giulia è il sogno londinese. Le due Catanzarese sono state scelte per un calendario che le porterà lontano. Astri nascenti per un book a firma di un nuovo fotografo delle star. E una è Giorgia e l'altra è Giulia. Insomma, due astri nascenti calabresi. E poi l'iniziativa arte, poesia e cucina tipica. Poete e pittori insieme grazie all'Accademia dei Bronzi di Ursini. Soverato a tavola con la solidarietà a Monte Paone. Celebrazione eucaristica e pranzo per la festa degli anziani. Un'iniziativa organizzata dalla sezione della Proloco. Se volete approfondire. Poi la Mezzia, invece, l'anno delle sentenze storiche. Il 2015 si chiude con i processi Perseo e Medusa fa primo e secondo grado. Pesanti condanne anche per alcuni omicidi della guerra di mafia. Crotone, titolo principale. Il caso legato all'ordine degli avvocati. Guerra fredda, scrive il quotidiano del Sud. Passa il bilancio preventivo, ma si acuiscono le contrapposizioni tra le due fazioni. Denunciata la non trasparenza gestionale della fondazione Scuola Forense. Andiamo anche su Cosenza con i geologi che diffidano il comune di Cosenza. Chiesta la sospensione della gara perché la perizia è stata curata da un ingegnere. Il museo di Alarico è il contendere. L'ordine spiega. Quelle valutazioni spettano ai nostri iscritti. Tirreno, Cosentino. Minacce reali e velate in Plinus 2. Il titolo più importante che troverete proprio all'interno del quotidiano del Sud. All'interno del chiederano Cosentino il secondo filone di indagini racchiude una serie di fatti. Si torna ad analizzare anche i fatti politici. Andiamo anche a Reggio Calabria. Velocemente la rinascita è già iniziata. Con quella speciale classifica della Sole 24 Ore che relegava Reggio Calabria all'ultimo posto per qualità della vita. La rinascita è già iniziata. Reggio Calabria scala la classifica. che si piazza al novantesimo posto sul report però questa volta di Italia Oggi che fa gioire Riccardo Mauro. Questa è la notizia più importante su Reggio Calabria. Andiamo anche a Vibo perché è arrivata la sentenza legata proprio ai dipendenti della provincia di Vibo Valencia ma è negativa. Insomma il diritto alla retribuzione dice il tribunale può essere fatto valere dalle singole persone non dal dottore in questo caso proprio la provincia di Vibo Valencia. Il giudice dà torto all'ente l'attesa non ha ripagato gli sforzi dei lavoratori. E poi in breve a Nicotara. Mare pulito e cristallino davvero neanche in estate si vedeva così. Sì e poi a Serra cani randaggi avvelenati e ancora i talcementi, nessuna bomba ecologica. Il sito è sicuro, la proprietà replica prontamente le affermazioni di un ex dipendente. E ancora sempre su Vibo Valencia, su rifiuti risultati fallimentari a parlare se socialismo, ecologia e libertà che attacca l'operato della giunta comunale vibonese, l'assessore dimissionario De Filippis non venga visto come capro espriatorio. E poi dicevamo però anche tanto sport con il Crotone che è ritornato al successo contro Lentella riportandosi ad un punto dalla Cagliari. Crotone un immenso patrimonio, adesso sarà riposo fino al 6 gennaio. Immagine, numeri, record di ricchezza economica, la società gongola riposo fino al 6 gennaio. Si riprenderanno gli allenamenti a Catania per poi riprendere il campionato il 16 gennaio. Quando a Lezio Scida arriverà la capolista Cagliari per quella che sarà la rivincita davvero dopo quella prima giornata come ricorderete che ha visto proprio il Crotone perdente con 4 gol sul groppone. Davvero una partita da non perdere. Un tema che approfondiremo anche all'interno del nostro telegiornale che vi ricordo ripartirà dalle 13.45. Quindi sarà il prossimo appuntamento della nostra informazione. Vi lascio al meteo e poi se volete ci rivediamo più tardi. Buona giornata ancora da Alessio Buonpasso. Amici di La C, una giornata di martedì che vede come gran protagonista l'anticiclone, addirittura tutta la Norvegia, la Finlandia che si colorano di arancione. Arriviamo fino a sopra, alla cima dello schermo, neanche d'estate. Io ricordo di aver visto immagini di questo tipo. Pressioni su soglie di 1030 ectopascal se non superiori. Da cosa dipende tutta questa condizione di anomalia delle condizioni meteo? Dipende essenzialmente dalla presenza del nigno che domina il Pacifico orientale e porta le temperature dell'intero oceano Pacifico orientale 3 gradi oltre la media del periodo. Tutto ciò ha degli effetti sul movimento degli anticicloni anche in Europa, facendo bovere gli stessi anticicloni lungo i meridiani, quindi da sud verso nord. Guardate, ci sono 10 gradi in più rispetto alla media sulla Norvegia, sulla Finlandia. Noi abbiamo in Italia 5-6 gradi in più. C'è chi nel nord Europa ha condizioni assolutamente ben più marcate delle nostre come anomalia termica ed è una situazione questa che colpisce e per le quali così pongono molti interrogativi. Sarà una giornata che vedrà ancora scarsa visibilità sul nord Italia con annuolamenti cumuliformi a ridosso della catena alpina e del settore pedemontano in un contesto comunque che non vede fenomeni precipitativi significativi su tutto il settentrione d'Italia e valori termici che non possono che essere, come si vedeva, si intuisce da quelle grafiche con gli anticicloni fuori dalla media del periodo. Temperature massime che esiteranno sui 15 gradi sull'Italia centrale, sarà così anche sul meridione d'Italia. È una giornata che vedrà fasi soleggiate anche ampie su entrambi i settori costieri e formazione di nuvolosità cumuliforme per lo più concentrata nei pomeriggi a ridosso dell'altopiano silano, della catena del pollino e delle serre. L'arrivo della neve o delle precipitazioni che tanto avrebbero favorito anche il turismo invernale visto il periodo di festa e vista anche l'imminente ormai inaugurazione delle nuove impianti risalite in Sila nella località di Lorica. Ecco, queste condizioni purtroppo meteorologiche non sono favorevoli alla pratica delle sport invernali al meridione d'Italia, è vero che ci sono i cannoni però se noi abbiamo cannoni sparaneve, se noi abbiamo delle temperature che sono ben oltre la soglia di funzionamento di queste attrezzature non possiamo neanche godere al sud delle possibilità di sciare su neve fresca. Non ci sono variazioni sul breve periodo se non un calo dei valori termici attese per le ultime giornate dell'anno, ma parliamo di un paio di gravi. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Conotaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C. News 24 va in onda alle 16 e 30. I calabresi sono informati.